Buonasera, eccoci qui con l'ultima edizione del telegiornale della 7. Allora, partiamo con l'atto di terrorismo islamico avvenuto questa mattina a Nizza. Un giovane armato di coltello ha fatto irruzione in una chiesa, uccidendo e massacrando tre persone. Il terrorista arrestato un mese fa era sbarcato a Lampedusa, poi transitato a Bari, successivamente lasciato libero con un ordine di espulsione. Tutto questo ha riacceso la polemica sui migranti, con Salvini che chiede le dimissioni del ministro dell'Interno, la Morgese. Van Sanloche, 55 anni, sacrestano della chiesa di Notre-Dame di Nizza, una donna di 60 anni e un'altra donna di 44, morta per le ferite riportate dopo essere riuscita a rifugiarsi in un bar. Sono loro le vittime dell'attentato terroristico che, ancora una volta, ha scosso la Francia. Tutto si è svolto in pochi minuti, poco dopo le 9 del mattino, quando un uomo armato di coltello ha fatto irruzione nella chiesa, fermato dalle forze dell'ordine e ferito, è stato subito ricoverato in ospedale. Islamo-fascista, così il sindaco di Nizza, Cristiano Estrosi, ha definito l'attentatore Brahim Ousawi, 21enne proveniente dalla Tunisia, non segnalato dalle autorità di quel paese, è arrivato a settembre a Lampedusa, fatto l'isolamento su una nave quarantena, è poi sbarcato a Bari, dove ha ricevuto un ordine di espulsione con invito al rimpatrio. Evidentemente è riuscito poi a far perdere le proprie tracce. Una vicenda, questa che ha scatenato in Italia una bufera politica con l'opposizione, Salvini e Meloni in testa, che ha attaccato il premier Conte e la ministra dell'interno, la morgese, la quale riferirà al COPASIR nei prossimi giorni. Siamo sotto attacco per la nostra libertà, ha affermato Emmanuel Macron, giunto a Nizza. Il presidente francese ha poi annunciato che i soldati dell'Operation Santinelle, addetti alla sorveglianza armata antiterrorismo, passeranno da 3 a 7 mila. Ferma la condanna del Consiglio Francese del Culto Musulmano, unanime il cordoglio e la solidarietà della comunità internazionale, anche da parte della Turchia di Erdogan, che con Macron nei giorni scorsi ha avuto feroci scontri sul tema delle vignette raffiguranti. Maometto. C'è ancora un record nel nostro paese per quanto riguarda i contagi da coronavirus. Nelle ultime 24 ore i positivi sono quasi 27 mila, a fronte di più di 201 mila tamponi effettuati. 217 i morti. 10 mila posti in terapia intensiva e 300 mila test al giorno per arginare la seconda ondata. E l'obiettivo annunciato dal commissario straordinario per l'emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, si dovrà fare di tutto per raggiungerlo, già a partire dalla prossima settimana, perché dai numeri che quotidianamente riempiono il bollettino della pandemia, risulta evidente come non ci siano margini per prendere tempo. Nelle ultime 24 ore è stata raggiunta la cifra record di quasi 27 mila nuovi casi. Anche i tamponi processati non sono mai stati così numerosi e hanno superato la soglia dei 200 mila in un solo giorno. In aumento anche il numero dei decessi, 217, e gli indicatori della pressione sul sistema sanitario. Altri 115 posti occupati nelle terapie intensive che portano il numero complessivo dei ricoveri nei reparti di emergenza a 1.651, mentre nei reparti Covid sono stati ricoverati altri 983 pazienti. Ancora la Lombardia rimane la regione più colpita con 7.339 nuovi casi. Poi la Campania, che per la prima volta supera i 3.000 contagiati in un giorno, seguono Piemonte, Veneto e il Lazio, che sfiora i 2.000 casi. Così il report settimanale della cabina di regia, atteso per domani pomeriggio, ci dirà quasi certamente che ormai siamo passati allo scenario peggiore, dove è difficile, se non impossibile, tracciare i contatti e stare dietro alla velocità di replicazione del virus, mentre il sistema sanitario comincia ad essere in sofferenza con l'ipotesi di lockdown sempre più vicina a realizzarsi. Sul fronte politico, il Presidente del Consiglio Conte ha difeso le misure contenute nel DPCM. Il fuoco amico, in realtà il vero problema del Premier, il capogruppo del PD alla Camera, Marcucci, in aula, ha parlato di verifica della tenuta della maggioranza, valutando se i singoli ministri siano adeguati all'emergenza. Il Presidente Conte valuti se i singoli ministri sono adeguati all'emergenza, apra la verifica, abbiamo bisogno di una maggioranza coesa. Sono più che mai esplicite le parole che il capogruppo al Senato del Partito Democratico, Marcucci, pronuncia nel corso dell'audizione di Conte, che difende il suo ultimo DPCM. Una presa di posizione che coglie di sorpresa tutta la maggioranza, compreso il PD, tant'è che a sconfessare immediatamente Marcucci ci pensa il suo vice, Mirabelli, che dice «Parlare di rimpasti appare una cosa fuori dal mondo». E Zingaretti aggiunge «Il sostegno del Partito Democratico a questo governo e ai suoi ministri è pieno e totale, non in discussione, posizione ribadita tra l'altro all'unanimità dalla direzione nazionale sul voto della mia relazione». A quel punto lo stesso Marcucci chiarisce meglio il suo intervento e spiega «Non ho chiesto nessun rimpasto, ho chiesto al Presidente del Consiglio di assumersi la responsabilità dell'azione di governo». Eppure la ferita resta, anche perché le parole del capogruppo DEM, ex-Renziano, arrivano nella giornata in cui anche Renzi attacca il capo del governo. Senza i miei giochini politici di un anno fa, Conte farebbe il professore universitario e in queste ore si occuperebbe di didattica a distanza. Dall'opposizione Salvini chiede a Conte di fare un passo indietro, non avendo più una maggioranza. E Giorgia Meloni al governo dice «Sulla calamità del Covid impatta un'altra inconcludenza, la vostra incapacità». Per il calcio, due vittorie e un pareggio stasera per le italiane che erano impegnate in Europa League. Il Milan ha facilmente battuto 3-0, uno sparta-praca grazie alle reti di Brahim Diaz, Leao e Dalotti. Brahimovic ha sbagliato un calcio di rigore. Bella impresa del Napoli che è andato a vincere 1-0 in Spagna sul campo della Real Sociedad con una rete di Politano. 0-0 invece tra Roma e CSKA di Sofia con i giallorossi incapaci di imporsi contro avversari inferiori che hanno avuto oltretutto più volte la chance di vincere la partita. Era l'ultima notizia. Grazie per essere stati con noi e un buon proseguimento.